Monterosso, paragonabile alla rassegna letteraria della Versiliana, un punto di riferimento sia per i residenti che per i turisti in un momento un po' difficile per la cultura? Sì, direi che ormai c'è questo abbinamento, cioè gli autori che vanno alla Versiliana il giorno dopo o il giorno prima vengono da noi. Effettivamente è una rassegna di grande successo perché abbina l'interesse rivolto agli abitanti che partecipano a queste serate e anche ai turisti. Siccome Monterosso è il punto di maggiore accoglienza turistica noi riusciamo a raggiungere quote elevate di presenze. Lo scorso anno con Rampini e Cotarella abbiamo fatto anche 600 presenze. Iniziamo giovedì con Marco Butticchi che gioca un po' in casa e poi proseguiamo con altri grandi appuntamenti. Abbiamo Rampini, la Schelotto, abbiamo Giovanni Grasso il portavoce del Presidente della Repubblica, Roberto Pazzi che racconta il Napoleone che viaggia verso Sant'Elena. Direi che è una varietà di presenze molto elevata che praticamente in 11 tappe nel mese di luglio-agosto accompagna l'estate delle Cinque Terre. C'è anche una dedica speciale diciamo al convento di Monterosso. Esattamente, abbiamo invitato padre Enzo Fortunato che è dedicato proprio un libro a Francesco Il Ribelle per festeggiare i 400 anni del convento di Monterosso. Poi Roberto Italo Zanini presenterà un libro dedicato a una santa sconosciuta. Diciamo che il contesto nel quale si svolgono questi appuntamenti è davvero toccante. Con questa rassegna lei ha ricordato che la politica non serve solo a sistemare delle infrastrutture. Sì, io credo che le amministrazioni abbiano anche il dovere di non concentrarsi solo o esclusivamente sul quotidiano, sui progetti della normale amministrazione, ma debbano anche traguardare degli obiettivi più grandi e più nobili. E' importante, io credo, che l'amministrazione offra ai propri concittadini e anche agli ospiti di Monterosso degli strumenti per potersi tenere aggiornati sempre e per avere sempre una chiave di lettura di quello che succede attorno a se stessi nel mondo e nella realtà.